Benvenuti al laboratorio di apprendimento di KIT. Oggi impareremo cos'è la deforestazione. La scomparsa delle piante si chiama deforestazione. Gli alberi sono lo scudo che difende l'atmosfera dall'inquinamento. Purtroppo i livelli di inquinamento continuano ad aumentare e gli alberi sono sempre meno. Se non ci sono alberi che fermano le nubi inquinanti, i raggi del sole non si riflettono e rimangono intrappolati sulla terra. È per questo motivo che la temperatura aumenta in modo incontrollato e l'inquinamento ci fa ammalare. Anche la scomparsa degli alberi per molti esseri viventi significa perdere la casa. Ma non è ancora troppo tardi. Come possiamo mettere fine alla deforestazione? Piantando alberi! Raccogliendo tutti i nostri rifiuti per evitare che gli alberi si ammalino. Imparando ad amare la natura e insegnando a tutti i nostri amici ad amarla. Salviamo insieme l'ambiente! Benvenuti al laboratorio di apprendimento di KIT. Oggi impareremo un nuovo modo di aiutare l'ecosistema. Ogni giorno ci laviamo i denti, o almeno dovremmo farlo. E a volte, mentre ci spazzoliamo i denti, lasciamo il rubinetto aperto. In questo modo, sprechiamo litri e litri di acqua. Attenzione! Con un gesto semplicissimo come chiudere il rubinetto, possiamo rendere il mondo un posto migliore e più sostenibile. Esatto, ragazzi! Ottimo! Cambiando i piccoli gesti quotidiani, possiamo aiutare il nostro pianeta. Salviamo insieme l'ambiente! Benvenuti ancora una volta alla gara di talenti del Dottor Spooky, con la vostra amata giuria, gli implacabili Spooker. Tra poco, il Dottor Spooky si metterà dietro questa tenda e uscirà trasformato in qualcuno di completamente diverso. Oh no! Il lato oscuro ha fatto capolino sul palcoscenico. Guardate che bel costume porta questo cavaliere oscuro. Pantaloni aderenti e cappello elegante. Uno stile inconfondibile. Magnifica esecuzione della figura del polpettone. Tornato un'altra volta in piedi, il Dottor Spooky Sì! Tossisce! Tossisce tanto! Tossisce tantissimo! Nessuno ha detto che fosse facile essere un villano. Dai, Spooky! Tranquillo! È passata! È passata! Così! Davvero speravi di prendere più punti? Wow! Perché hai bisogno di un'automobile quando puoi usare la forza? Bisognerà provare con un altro costume. Oh mio Dio! Con tutti voi! La principessa di ghiaccio! Coreografia da infarto! Drammaticità! Massima dedizione! Persino un pupazzo di neve! Cos'altro si potrebbe chiedere? Un'interpretazione del genere? No! Non lo farai per davvero, Spooky! Dimmi di no! Quel passo di danza! No! Ci sei rimasto di sasso! Allora, riproviamoci! Il dottor Spooky cerca qualcosa per colpire la giuria. Ma non ha trovato nulla. Cosa? Tre dieci? Gli Spooker lo amano così com'è! Oggi, lezione di pittura con Kangoo. Dipingeremo un niente popò di neno che... Bappo Natale! Ho, 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 ho! Prendiamo bene le misure... E... All'opera! Sei un vero artista, Kangoo! Adesso dobbiamo dipingere! Il rosso è per il vestito di Bappo Natale. Cosa possiamo usare il nero? Esatto! Per gli stivali e il cinturone. E il cielo lo facciamo di un bellissimo rosa. Che possiamo dipingere con il viola? Esatto! Le montagne! Ma ci manca qualcosa di verde. Il regalo enorme! Ops! È finito il verde. Ah! Se mischi il blu con il giallo... E giri bene... Hai il verde! Adesso possiamo finire di dipingere il regalo. Ho, 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 ho! Buon Natale, bambine e bambini! Buon Natale! Tutti in salotto! È ora di aprire i regali! Inizia, Kangoo! Poi tu, Kit! Cosa ci sarà per Katty? Ecco il tuo, Monkey! Sarete belli caldi quest'inverno! Manca da aprire il regalo più grande di tutti! Che bel regalo! Favoloso! Ma prima di provarlo, copritevi bene! Così! Andiamo a goderci la neve! Wow! Divertente! Un momento, ragazzi! Guardate dietro di voi! Oh no! C'è una palla di neve enorme che ci insegue! Certo! È stato il dottor Spooky a lanciarla! È vero! Oh no! State per cadere dritti, dritti! Un precipizio! Ma Kangoo ha un piano! Proprio nel punto giusto! Caduta sferpetta! Centro! Proprio nel bianco! Sembra un pupazzo di neve! Guardate quanto è felice! Che bello! Con il naso e tutto il resto! Prima o poi imparerai la lezione, Spooky! Proprio nel bianco! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh! Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh! A day or two ago, I thought I'd take a ride And soon Miss Penny Bride was seated by my side The horse was leaning leg, misfortune seemed a slot She got into a drifted bank and then we got a truck Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Let's clean up and don't forget to recycle the trash I've got a bottle, where does it go? It's made of plastic, where does it go? I've got a bottle, where does it go? Let's recycle the trash The plastic goes in the plastic bin The plastic goes in the plastic bin The plastic goes in the plastic bin Let's recycle the trash I've got a can, oh, where does it go? It's made of metal, where does it go? I've got a can, oh, where does it go? Let's recycle the trash The metal goes in the metal bin The metal goes in the metal bin The metal goes in the metal bin Let's recycle the trash I've got a box, oh, where does it go? It's made of cardboard, where does it go? I've got a box, oh, where does it go? Let's recycle the trash The cardboard goes in the cardboard bin The cardboard goes in the cardboard bin The cardboard goes in the cardboard bin Let's recycle the trash I've got a jar, oh, where does it go? It's made of glass, oh, where does it go? I've got a jar, oh, where does it go? Let's recycle the trash The glass things go in the glass trash bin The glass things go in the glass trash bin The glass things go in the glass trash bin Let's recycle the trash Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti